Grazie a tutti. Icce e Chiesa, Europa rapprezza la decisione di Monti, incontro con Bertone per patti lateranensi con Napolitano e alte cariche. Serata memorabile di grande musica al Festival di Sanremo, i big duettano con i grandi cantanti stranieri e interpretano le canzoni italiane che hanno emozionato il mondo. Buonasera, benvenuti al Tg1 della Notte. In apertura l'economia, lo slittamento dei tempi per il salvataggio della Grecia e il taglio delle previsioni sul prodotto interno lordo nella zona euro pesano oggi sulle borse europee. Lo spread tra BTP e Bund tedeschi prima sale sopra i 400 punti, poi torna a scendere. Sentiamo Laura Chimenti. I continui rinvide il salvataggio della Grecia da parte dell'Europa e la scure di Moody's che taglia rating ed outlook di 114 banche europee di cui 24 italiane pesano sulle borse del vecchio continente che in chiusura però limano le perdite sulla scia di Wall Street. L'America infatti, dopo un'apertura debole, si riprende alla notizia che la richiesta di sussidi di disoccupazione è ai minimi dal 2008. Sotto pressione lo spread tra BTP e Bund tedesco che dopo aver toccato in giornata picchi di oltre 400 punti chiude a 375,8. Più contenute invece sui mercati l'impatto delle notizie che arrivano dalla Banca Centrale Europea che prevede per l'Eurozona una ripresa economica pur molto graduale a partire dal 2012. Quest'anno, secondo le previsioni di Francoforte, la crescita frenerà assegnando meno 0,1% dal più 0,8% stimato in precedenza per poi pian piano recuperare nel corso dell'anno fino a raggiungere più 1,1% nel 2013. Per Francoforte bene i bassi tassi di interesse a breve termine e le misure messe in atto a sostegno dell'economia ma per aumentare la concorrenza servono riforme ambiziose, mercato del lavoro meno rigido e maggiore flessibilità salariale. Il tasso di disoccupazione spiega è in aumento al 10,6% sia quest'anno che l'anno prossimo. In Italia, dice Giovannini, presidente Istat, in nove mesi 80.000 giovani occupati in meno. La crisi greca Atene cerca disperatamente di convincere l'Eurozona a sbloccare gli aiuti ma l'Unione non si fida ancora. Sarà cruciale la visita di domani in Italia della cancelliera Merkel. Intanto si infiamma la polemica tra Berlino ed Atene dopo le critiche del ministro delle finanze tedesco. Il corrispondente è Marco Valvello. Solidarietà con il popolo greco, siamo tutti greci. La protesta contro le misure draconiane imposta ad Atene arriva alla Banca Centrale Europea a Francoforte. E si fa sempre più accesa la guerra di parole tra Germania e Grecia. Il ministro delle finanze Schäuble, l'uomo dei conti a Berlino, dice che la crisi greca è un pozzo senza fondo, auspicando che anche ad Atene trovino un Mario Monti per uscirne. Gli risponde indignato l'ottantenne presidente greco Papuglias, che i tedeschi conosce bene, per averli combattuti durante l'occupazione nazista e per avere trascorso in Germania l'esilio durante la dittatura dei colonnelli. Chi è Schäuble per insultare la Grecia, ha detto, come si permettono tedeschi, olandesi, finlandesi, riferimento ai fautori della linea dura in Europa, che hanno bloccato finora la seconda tranche di aiuti finanziari ad Atene. Se ne riparlerà lunedì a Bruxelles, ma già spunta l'idea di congelarli fino dopo le elezioni anticipate di aprile in Grecia. Nuova incognita che preoccupa l'Eurogruppo. Cruciale dunque la visita di domani a Roma dalla cancelliera Merkel, è anche l'incontro con il premier Monte, poi pranzo al Quirinale con il presidente napolitano. Tanto più ora con Sarkozy ormai impegnato solo sul fronte a rielezione, il governo italiano è interlocutore essenziale, non solo per la crisi dell'Euro, ma anche sulla strada di una maggiore integrazione politica nell'Unione. Allarme e corruzione dalla Corte dei Conti è un fenomeno ancora molto presente nella società italiana, ha detto il presidente Giampaolino all'inaugurazione dell'anno giudiziario alla presenza del presidente della Repubblica Napolitano. Il servizio è di Dino Sorgonà. L'inserimento voluto dall'Europa del principio del pareggio di bilancio nella Costituzione, ha detto il presidente della Corte dei Conti Giampaolino, rafforza il suo ruolo nella funzione di controllo del bilancio pubblico, sante anche l'attuale situazione di crisi economica. Il presidente Giampaolino e il procuratore della Corte hanno messo il dito nella piaga poi dei fenomeni di corruzione, illegalità e malaffare presenti nel Paese, le cui dimensioni sono di gran lunga superiori a quelle che vengono spesso faticosamente alla luce. Giampaolino si riferisce a tutti quei comportamenti che arrecano un danno alle finanze pubbliche, dalla corruzione nella sanità, lo smaltimento dei rifiuti, all'utilizzo gravemente colposo di quei prodotti finanziari chiamati derivati. In particolare attenzione la Corte poi presta ai costi della politica. Si va verso una forma maggiore di trasparenza. La Corte, specie negli ultimi anni, aveva posto molto l'accento su quello che poi si è verificato essere uno dei casi più eclatanti negli ultimi momenti, cioè questo dei rimborsi elettorali. Noi abbiamo delle cifre che appunto dimostrano come questi rimborsi siano molto superiori a quando effettivamente spendono i partiti e quindi si risolvono in una locupletazione ulteriore dei partiti. Altra piaga del Paese ha ricordato il Procuratore e poi l'evasione fiscale. In Italia analisi accurate svolte sull'IVA evidenziano un'evasione di oltre il 36%. L'Europa applaude all'annuncio del governo italiano di far pagare anche alla Chiesa l'imposta sugli immobili non destinati al culto. Oggi si è svolta la cerimonia che ricorda l'anniversario dei patti lateranensi. Stefano Ziantoni. Un incontro di grande cordialità e collaborazione nel quale si è parlato di tanti argomenti come gli effetti della primavera araba. Certo, la coincidenza tra la ricorrenza odierna e la decisione del Presidente del Consiglio Monti di correggere le regole dell'esenzione dell'Ice alla Chiesa con un emendamento in Parlamento ha giunto molta attesa anche se l'Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede ha assicurato non si è parlato di Ice. Presenti il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, i Presidenti di Senato e Camera, il Presidente del Consiglio con i suoi ministri, i segretari del PDL Alfano e del PD Bersali. Come è andata, chiedono all'uscita i giornalisti e al Presidente della Repubblica. Mi dicono soprattutto ai partecipanti alla riunione tra i due governi che mi hanno detto gli uni e gli altri che è andata benissimo, sono stati loro i protagonisti. L'emendamento del governo prevede l'esenzione dell'Ice solo per i luoghi destinati al frutto. Non può essere il problema Ici a mettere in discussione o a minimamente inclinare gli ottimi rapporti che storicamente si intrecciano tra Stato e Vaticano e Santa Sede. Ci auguriamo, si legge in una nota della CEI, che sia riconosciuto e tenuto nel debito conto il valore sociale del vasto mondo del no profit. L'Europa con Almunia applaude la decisione di Monti, anche perché l'Unione nell'ottobre 2010 aveva aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per l'indebito aiuto di Stato concesso oltre Temere. Più trasparenza nel finanziamento pubblico dei partiti. È la proposta di legge presentata dal segretario del PD Bersani che sulla riforma del lavoro dice che serve qualcosa di concreto per i giovani. Sentiamo Natalia Augias. Riformare i partiti è una priorità, serve una gestione trasparente. Bersani spiega la proposta del PD che prevede fondi pubblici accessibili solo attraverso un'assoluta trasparenza delle risorse con controllo finale da parte della Corte dei Conti. Per il segretario del PD 20 anni di populismo hanno visto l'Italia arretrare su tutti i fronti. I partiti quindi, dice Bersani, vanno riformati ma sono la garanzia della tenuta della democrazia. L'anomalia è che ci sia un finanziamento pubblico della politica o l'anomalia è il fatto che non ci sia una legge sui partiti? Perché se l'anomalia è il finanziamento pubblico vuol dire che noi avremo un dibattito fra miliardari. Discorso a tutto campo. Bersani parla di Rai, il governo cambi la governance di Europa, nessuno si salva da solo. Di lavoro, bene e non scontate le proposte del governo, di primarie, indietro non si torna. Ci sono ammaccature, problemi, questioni. Ma vediamola quando saranno fatte le elezioni. Parliamone, parliamone dopo, che capiamo meglio com'è il meccanismo. Io sono fiducioso, molto fiducioso sulle amministrative. Quanto alle prospettive politiche? Non è che dopo Monti c'è il Cencelli. Dopo Monti c'è un governo ugualmente autorevole, con competenze, ma che ha una maggioranza parlamentare univoca. Va bene l'imposta sugli immobili non di culto, ma un secco no agli intenti punitivi contro la Chiesa. Lo ha affermato il segretario del PDL Alfano, che ha anche parlato del caso Tessere nel PDL della legge elettorale. Cecilia Primerano. Non conosciamo il testo, ma non abbiamo pregiudizi. Angelino Alfano apre all'intenzione del governo di applicare lici su alcuni immobili della Chiesa. Se il governo ha individuato delle regole generali che valgano per tutte le organizzazioni no profit, che non siano punitive nei confronti della Chiesa, noi lo valuteremo con favore. Il segretario del PDL parla alla presentazione della politica al Digital Academy, la scuola che punta a formare sul web gli iscritti del popolo della libertà, soprattutto i giovani. Obiettivo far diventare il PDL un partito 2.0. Quanto alle polemiche sul tesseramento, Alfano nega irregolarità e conferma lo svolgimento dei congressi territoriali nel weekend. Trasparenza è la parola d'ordine anche sul finanziamento dei partiti. Proporremo e sosterremo una riforma profonda del finanziamento dei partiti. Noi la immaginiamo più all'americana. E sulla legge elettorale ribadisce. Lavoriamo per fare sì che venga eliminato il principale difetto di questa legge elettorale, che è quello di non fare scegliere ai cittadini il loro rappresentante in Parlamento. Alfano rilancia la riforma della giustizia, auspicata anche da Silvio Berlusconi. L'ex premier si è detto amareggiato per quella che ritiene una persecuzione giudiziaria dopo la richiesta di condanna del PM al processo Mills. Le novità relative all'ICI per gli immobili di proprietà della Chiesa insieme alle modifiche al decreto sulle liberalizzazioni sono i temi su cui discutono i partiti. Sentiamo Marco Frittella. La decisione del governo di modificare il regime di tassazione degli immobili della Chiesa trova consensi trasversali in Parlamento. L'Italia dei valori tra i favorevoli chiede tuttavia che a delle parole il governo passi ai fatti. E Vendola dice... Credo che ci sia indirizzati sulla strada giusta. Del resto il precetto evangelico del dare a Dio quel che è di Dio e a Cesare quel che è di Cesare fa riferimento proprio al tema dei tributi. Tuttavia in Parlamento molti deputati dei tre gruppi che sostengono il governo chiedono più attenzione da lupi a galletti dell'Udc e avvertono non si può tassare chi fa del bene una mensa dei poveri per esempio. Esigenza che trova Concorde Casini, il quale però giudica ineccepibile la decisione. Tutti gli esercizi commerciali finalizzati ad attività diverse è giusto che paghino ricci. Per cui la posizione di Monti è ineccepibile ed è in linea con quanto la maggioranza tutta e in tutte le sue componenti ha sempre dichiarato. Intanto al Senato va avanti il lavoro per ridurre e organizzare meglio gli emendamenti al decreto liberalizzazioni. Si procede rapidamente in un clima costruttivo, come dice il Presidente Schifani, ma la Lega attacca così. Siamo in piena recessione e le scelte di questo governo sono assolutamente sbagliate. Tante troppe nuove tasse, nessun provvedimento di crescita e sulle liberalizzazioni non si toccano i grandi centri di potere. A questo punto, per quanto ci riguarda, questo governo prima se ne va a casa e meglio è. Quanto ai radicali oggi manifestazione per l'abolizione del concordato di fronte all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede dove si svolgeva l'incontro italo-vaticano. A New York l'Assemblea generale dell'ONU ha approvato con 138 voti a favore una risoluzione che condanna la repressione messa in atto in Siria dal regime di Bashar Assad. Tra i 12 voti contrari, Russia e Cina che hanno usato due volte il veto per bloccare la condanna. La cronaca ora ha arrestato per spaccio a Castelfiorentino un professore che vendeva droga ai suoi studenti. Nella sua auto sono state trovate le dosi già confezionate. Il servizio di Carolina Casa. C'è un insegnante che spaccia a scuola, arriverà tra poco a bordo di un'auto scura. La telefonata anonima arriva in caserma. I carabinieri si appostano qui nel parcheggio dell'Istituto Tecnico Enriquez di Castelfiorentino e quando il professore arriva, lo bloccano subito. Scatta la perquisizione, l'uomo, prima calmo, si nervosisce. I militari smontano l'auto e trovano la droga nascosta nella scatola del faro posteriore, 5 grammi di cocaina e 45 grammi di marijuana. Dosi già confezionate e pronte per essere vendute, è il sospetto degli investigatori. Noi li mandiamo a scuola perché abbiano un'educazione molto particolare, specialmente non solo professionale ma anche civica. Quindi non possiamo assolutamente sapere a chi li mettiamo in mano. Il professore, 42 anni, di Colle Valdelsa, ora è rinchiuso nel carcere di Sollicciano con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. All'Istituto Alberghiero insegnava laboratorio di sala e vendita formando aspiranti barman. Spesso portava i ragazzi ai concorsi anche in giro per l'Italia. Una volta si lascia qui davanti il cancello, poi ci appensa loro dentro. Pugni e spari nelle drammatiche immagini di una rapina in gioielleria avvenuta a Palermo due mesi fa. Uno dei banditi si è costituito. Alfredo Conti. La cronaca del terrore in videotape. Palermo, piazza Tommaso Natale, lo scorso 30 dicembre. Ecco l'eruzione in gioielleria dei banditi. Pistole in pugno, volti coperti da passamontagna, bloccano il titolare che aveva aperto la porta blindata della cassaforte ingannato da una complice dei malviventi scambiata per una cliente. Sono attimi interminabili. Il commerciante viene colpito prima con un pugno violentissimo e poi sfiorato da un proiettile sparato da un rapinatore. Ad una donna che si trovava dentro il negozio vengono legate le mani con delle fascette. Arraffata la refurtiva alla fuga. Adesso, a distanza di mesi, si è costituito uno dei due rapinatori, Marco Aiello, 22 anni. Sapeva che i poliziotti dell'antirapina di Palermo erano già sulle sue tracce. Le immagini delle telecamere a circuito chiuso della gioielleria di una tabaccheria hanno filmato il giovane e gli altri componenti della banda mentre parcheggiavano un motorino e un'auto che dovevano servire per fuggire dopo il colpo. Ma è stata proprio la targa della vettura a portare gli investigatori sulle tracce di Aiello. Era infatti intestata un suo familiare. A casa del giovane è stata poi ritrovata la tuta indossata durante l'assalto. Il cerchio si starebbe stringendo anche attorno ai suoi complici. Cambiamo argomento. Parliamo di spettacolo. È stata una serata di grande musica e di emozioni al Festival di Sanremo. Sul palco i big hanno duettato con gli ospiti stranieri e cantato le canzoni italiane famose nel mondo. L'inviato Vincenzo Mollica. La serata era una scommessa dedicata alle canzoni italiane che hanno conquistato il mondo ed è stata una serata memorabile. Una delle migliori degli ultimi anni del Festival. Un'emozione dietro l'altra. Tutti in piedi per Brian May Day Queen con Irene Fornaciari che giustamente si è commossa e Carrie Ellis. Altra standing ovation per Patti Smith con i Marlene Kunz che hanno vinto per la migliore esibizione. Emozionante Arisa con José Feliciano in Che Sarà che lanciò questa canzone proprio dal Festival di Sanremo 40 anni fa. Grande Al Jarrò con i Mattia Bazar Prezioso il duetto tra Finardi, Noa e Morandi Nella vita è bella. E grande commozione quando Loredana Bertè, Macy Gray e Gigi D'Alessio hanno cantato Almeno tu nell'universo dedicato a Mia Martini. Finalmente Rocco Papaleo ha cantato una canzone buffa intitolata La Foca coinvolgendo tutto il pubblico in sala. Federica Pellegrini ha portato la sua giovinezza, il suo temperamento, la sua intelligenza, la sua simpatia. Alla fine della serata sono stati riammessi in gara Lucio Dalle, Pier Davide Carone e ancora Gigi D'Alessio e Loredana Bertè. Eliminati invece Marlene Kunze, Irene Fornaciari. Adesso è il momento della nostra rassegna stampa. Vediamo cosa leggeremo sulle prime pagine dei giornali tra poco ed edicola. In studio con me anche stasera c'è Francesco Oliva. Buonasera, l'allarme lanciato dalla Corte dei Conti sulla corruzione dilagante in Italia, la notizia che riportano tutti i giornali fra poco in edicola. Andiamo a leggere insieme. Ecco, possiamo subito iniziare a vedere i due titoli a confronto del Corriere della Sera e della Repubblica, identici. La corruzione sta dilagando. Un titolo che naturalmente ritroviamo anche sulla stampa, corruzione è sempre peggio. È il titolo, vediamo qualche dettaglio, allarme della Corte dei Conti. L'illegalità dilaga, costa 60 miliardi l'anno. Slitta ancora il disegno di legge del governo. Severino c'è bisogno di tempo. Calano le auto blu, ma non basta. L'analisi a firma di Paolo Baroni dove politico e privato si incontrano. Andiamo adesso al messaggero. Anche qui, corruzione dilagante. L'allarme dei giudici contabili, rinviato il disegno di legge, troppi emendamenti. La Corte dei Conti costa 60 miliardi all'anno. Evasione record. E vediamo anche le notizie relative ai dati Istat. La crisi colpisce i giovani, persi 80 mila posti in nove mesi. Sul messaggero anche le conseguenze di alcune denunce, alcune denunce fotografiche che erano state riportate dai giornali sui pronto soccorsi della Capitale. Adesso al pronto soccorso c'è l'inchiesta, informa il messaggero. Nel mirino della Procura di Roma, i reparti di emergenza di tutti gli ospedali, accertati dai carabinieri dei NAS, molte disfunzioni e il Ministero chiede una relazione. Un tema questo che è anche l'apertura del tempo. I magistrati vanno al pronto soccorso. Dopo il San Camillo, a Roma la Procura apre un'inchiesta su tutti i reparti di emergenza degli ospedali della Capitale. Nel Lazio, record di spese per le auto blu, anche quelle inutilizzate. A centropagina, questa sorridente immagine del Premier Monti insieme ad Angela Merkel anticipa il vertice multi-Merkel con il pressing dei partiti. Sul tavolo, Grecia, riforma BCE e aumento del fondo salva stati. L'analisi del tempo si sofferma sul prezzo della politica di Berlino sull'Europa e il titolo è Il prof faccia un paio di domande ad Angela. Ora passiamo all'unità. L'unità, nella sua foto centrale di apertura, corrotti e mazziati, si parla anche qui naturalmente dell'allarme sulla corruzione, danno da 60 miliardi vent'anni dopo l'arresto di Mario Chiesa. La Corte dei Conti denuncia che mazzette e aree grigie bloccano ancora l'Italia. Sull'unità spazio anche alle questioni della politica interna. Il Partito degli Onesti, travolto da tessere false, si parla del PDL, inchieste e denunce in tutta Italia, Alfano sospende nove congressi, poi ci ripensa. E Bersani che dice La riforma dei partiti è una priorità e bisogna farla in fretta. E ancora il tema caldo di ieri, soprattutto Lici alla Chiesa. Sul Lici alla Chiesa, balletto di cifre, i sindaci così non va. I comuni preoccupati, difficile applicazione, recupero tra 100 e 700 milioni. Dall'unità andiamo al manifesto. Anche il manifesto apre con la questione della corruzione. Il titolo è Mani impunite. In Italia dilagano corruzione, illegalità e malaffare. A vent'anni da Tangentopoli, la Corte dei Conti certifica che nulla è cambiato e il governo fa slittare la discussione sul DDL anticorrotti. Sul manifesto troviamo anche il titolo, sempre su Lici e la Chiesa, concordato su Lici tra governo e Vaticano, scrive il manifesto. Ecco, ma a questo proposito andiamo a leggere l'avvenire. Perché sull'avvenire oggi troviamo quella che può rappresentare in qualche modo una replica a tutta la bagarre successa in questi giorni sull'argomento. Perché troviamo l'editoriale a firma di Umberto Folena. Il non profit merita rispetto. È il titolo appunto a proposito di Imu, ex Ici. Andiamo a vedere qualche passo. Fa notare l'avvenire che la nota di Palazzo Chigi parla di tutti gli enti non commerciali. Tutti gli enti la nota non ne fa l'elenco. Scrive perché sarebbe sterminato, ma non lo riduce nemmeno la sola Chiesa cattolica mai nominata. Questa riduzione, scrive ancora, l'avvenire continuano invece a farla in molti, come se la questione, secondo il grossolano lessico radicale, riguardasse soltanto il Vaticano. È come se leggessimo, gioca il Milan, ecco la Serie A, riducendo l'intero campionato a una sola squadra, certo di gran peso. Ecco, questa era la replica dell'avvenire alla questione della Chiesa. L'avvenire apre invece sul lavoro dramma giovanile. L'emorragia non si ferma. In nove mesi persi 80.000 posti. Fornero punta sull'apprendistato e scommette riforma entro marzo. La scura di Moody's declassate 114 banche europee. Oggi Monti vede Merkel. Ora, andiamo avanti con il riformista. Anche qui la corruzione, la corruzione come la mafia. La Corte dei Conti lancia l'allarme sul dilagare dell'illegalità. A centro pagina, ancora le questioni della PDL. Alfano rompe il silenzio, scrive il riformista, dopo le denunce del riformista sul tesseramento gonfiato. Troviamo invece a fondo pagina sul riformista un attacco molto forte all'ingegner De Benedetti. Perché? L'ingegnere è accusato dal riformista di voler togliere i finanziamenti alle testate minori perché avrebbe detto c'è puzza di cadavere. L'attacco è molto forte. Sappiamo che questo è un tema delicato per alcune testate, soprattutto quelle minori che hanno visto sospendere i finanziamenti. Allora il riformista accusa De Benedetti di essere un editore sano da 4 euro a pezzo, citando la denuncia di un giornalista della Gazzetta di Modena che ha appunto denunciato di essere pagato 4 euro a pezzo dal giornale di proprietà del gruppo editoriale che fa capo a De Benedetti. Passiamo ora alle notizie economiche con il sole 24 ore. Cambiano le tasse su casa e rifiuti. Ecco la prima bozza del decreto fiscale previsti tagli alle esenzioni e alle egevolazioni per l'Imu, nuovi paletti alle compensazioni IVA, sanzioni triplicate per chi esporta somme illegalmente in posta di soggiorno in tutti i comuni. E anche qui troviamo la corruzione con una nota particolare, cioè il fatto che la corruzione costa 60 miliardi all'economia e sull'IVA l'evasione record. Restiamo in qualche modo su notizie di economia con la Padania, perché la Padania dà la sua lettura delle questioni legate al rating e scrive rating Padania da AAA, rating Italia da BBB. Il vero criterio non sia il debito pubblico, ma il territorio chiede la Padania, attacco di MUDIS all'Europa dei popoli, declassa il nord delle regioni autonomiste. Ma i dati del PIL dicono il contrario, la Padania è tra le aree più forti e sane e il resto del paese che arranca. E la Padania a centropagina non manca di lanciare una frecciata al Premier Monti, perché scrive Bocconi di Icci, 600 mila euro non pagati dall'Ateneo del Prof. Il Prof è naturalmente il professor Monti. C'è ancora spazio per un settimanale, in edicola domani è l'Espresso, l'Espresso con la sua inchiesta, la Banca di Dio, dossier, accuse, veleni, la guerra intorno allo Iorso, i conti cifrati, antiriciclaggio, mette a rischio gli affari della Chiesa, mentre in Vaticano infuria lo scontro sugli assetti di potere. Per la rassegna stampa è tutto, a domani a te Alessandra. Grazie Francesca, noi adesso apriamo la pagina estera con il nostro TG1 Focus, la rubrica Atrante, vediamo. Bentornati ad Atlante, un gruppo di isole di pescatori, disabitate e battute dal vento gelido dell'Atlantico Meridionale. Eppure per le isole Falklands, 30 anni fa, Argentina e Gran Bretagna hanno combattuto una guerra, vinta da Londra. L'anniversario dell'attacco si avvicina, era il 2 aprile del 1982, e la contesa si riaccende. Il corrispondente da Buenos Aires, Raffaele Fichera. E' l'eredità avvelenata della dittatura militare. Appena 8 settimane di guerra, 900 soldati caduti, di cui gran parte argentini, ed un braccio di ferro con l'Inghilterra che dura ancora oggi, anzi, che proprio nell'imminente trentesimo anniversario della fine del conflitto torna a contrapporre con durezza i governi di Buenos Aires e Londra. Tema del contendere, la sovranità su un arcipelago britannico del sudatlantico, le isole Falkland, che gli argentini chiamano Malvinas e continuano a considerare di loro proprietà. che stanno militarizzando l'Atlantico meridionale, ha accusato giorni fa la presidente argentina Cristina Fernandez e ieri ha formalizzato la sua denuncia contro l'Inghilterra davanti alle Nazioni Unite. Un tema internazionale che la Fernandez usa a fini di politica interna, accusa l'opposizione. Ma che la ferita Malvinas sia ancora aperta in Sud America è un fatto che trova ogni giorno nuove conferme. Dalla solidarietà degli altri stati del continente, Brasile, Bolivia, Venezuela, ai commenti di strada, dalle parole dell'attore Sean Penn, duro con il colonialismo inglese nel suo incontro di lunedì con la presidente, al pallone, con il Lanus, la squadra di camoranesi, che inserisce le Malvinas nella sua maglietta. Ufficialmente l'Argentina non ha digerito la scelta di Londra di inviare un cacciatorbediniere ed un sommergibile nucleare a 400 chilometri dalle sue coste. Esercitazione di routine, ripete la diplomazia, ma a Buenos Aires non basta. Sotto le Falkland Malvinas sembra ci sia tanto petrolio ed il patriottismo, non sarebbe la prima volta, con l'oro nero diventa valore incrollabile. Come risponde l'altra parte in causa, quella dei vincitori, alla presidente Kirchner che si dice decisa a fare tutto il possibile, salvo la guerra, per riaprire la questione, Londra risponde inviando tra l'altro le rede al trono e i toni si surriscaldano. Il servizio del corrispondente da Londra, Antonio Caprarica, io vi saluto, Atlante torna come sempre giovedì prossimo. Arrivederci. Di solito l'arrivo del principe William scatena gridolini delle fan piuttosto che trombe di guerra, ma un reale d'Inghilterra indivisa alle isole Falklands è cattivo e tre sangue. L'ultima volta che se ne è visto uno era nella sanguinosa guerra di 30 anni fa. Nella forza di spedizione inviata dalla signora Tarcher per respingere lo sbarco ordinato dalla giunta militare di Buenos Aires c'era anche il terzo genito della regina, Andrea, duca di York. A differenza di quella dello zio, la missione di William non ha nulla di cruento, otto settimane sugli elicotteri di soccorso, ma per l'Argentina è una provocazione inferiore solo all'arrivo nell'area del Dauntless, incrociatore britannico specializzato nella difesa antiaerea, conferma in acciaio del pubblico impegno del Premier Cameron. Finché gli abitanti delle Falklands vogliono rimanere sudditi britannici, faremo sì che lo restino e difenderemo le isole nel modo migliore. Cameron ha già riferito in Parlamento sui piani d'emergenza per difendere gli scogli a 12.000 km da Londra da un eventuale attacco argentino e il Ministero della Difesa non si è curato di smentire le proteste di Buenos Aires sull'invio di un sommergibile nucleare della classe Vanguard. Un altro conflitto per un arcipelago con più pecore che abitanti gli isolani appena 3.000 sembrerebbe una follia e molti dubitano che l'Inghilterra e Naffanno potrebbe oggi permettersi gli exploit militari di Lady Thatcher nell'82. L'escalation per ora è soltanto di parole ma le esplorazioni petrolifere britanniche attorno alle isole rischiano di versare letteralmente benzina sul fuoco. Manca una manciata di secondi alle 2 il Tg1 torna tra poche ore alle 6.30 grazie per essere stati con noi tutti voi auguro una buonanotte. Buon pomeriggio bentornati a Meteo 1 stiamo guardando insieme la grafica relativa alla previsione per domani decisamente differente da quella degli ultimi giorni finalmente tornano nella giornata di domani condizioni di stabilità sulla gran parte delle nostre regioni laddove il tempo era già migliorato al nord e al centro non così per il meridione in questa giornata di giovedì ma da domani lo vediamo anche al sud benché ci sarà passaggio di nuvolosità specialmente sull'area ionica e una ventilazione da nord ancora sostenuta in realtà scarsa o nulla sarà la probabilità che a queste nuvi si possano associare delle precipitazioni. Tempo più stabile come detto sulle regioni settentrionali e su quelle centrali dove potrà passare qualche velatura al nord nelle valli del centro ci saranno anche delle riduzioni di visibilità piuttosto marcate durante le prime ore del giorno e ancora temperature un po' basse proprio durante la prima parte della giornata ma anche il fatto che ci sarà una ventilazione abbastanza scarsa garantirà comunque una giornata più gradevole di quelle più recenti. Andiamo a vedere la previsione per la giornata di sabato eccoci qua siamo all'inizio del weekend un po' più di nuvolosità in arrivo segnale però del cambiamento della massa d'aria presente sul nostro territorio sull'area del Mediterraneo centrale se infatti il vento sul basso Adriatico e sullo Ionio sarà ancora da nord ovest o da nord sul settore più occidentale tra la Sardegna e le regioni tirreniche la ventilazione comincerà ad essere meridionale arriva quindi dell'aria sicuramente più tiepida ma arriva anche dell'aria più umida e quindi aumenteranno un po' le nubi nel corso della giornata proprio sulle nostre regioni occidentali qualche isolata pioggia sulla Sardegna settore meridionale qualche isolata pioggia anche tra la Liguria di Levante e l'Alta Toscana con umidità abbondante nei bassi strati dell'atmosfera sulle zone pianeggianti del nord e quindi con nebbie anche abbastanza diffuse cielo sereno o poco nuvoloso finalmente dobbiamo dire sull'area adriatica e sul nostro meridione in generale temperature come abbiamo detto per il cambiamento della massa d'aria che tenderanno ad aumentare in modo più o meno definitivo bene questo è tutto per la previsione del tempo grazie per la cortesia attenzione vi auguro buon proseguimento di serata arrivederci a domani meteo 1 con la partecipazione di pasta di vella ben trovati tra poco spazio alle curiosità di sottovoce con Gigi Marzullo domani alle 20 e 30 vi rammento invece in diretta dal teatro Ariston di Sanremo la quarta serata del 62esimo festival della canzone italiana presentato da Gianni Morandi con Rocco Papaleo e Ivana Mrazova scoprite con noi quale canzone verrà proclamata vincitrice tra quelle degli artisti giovani di Sanremo Social domani alle 20 e 30 c'è il festival della canzone e di Sanremo Social arrivederci su Rai 1 a